riprendiamo da dove eravamo rimasti ovvero dopo aver sbagliato strada si torna indietro e si riprende quella giusta e qui siamo all'incrocio 27 giugno siamo a bormio e si sale alle torri di fraele in questo video dopo aver trovato la strada giusta si imbocca la salita e si fanno i primi chilometri e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite questo potrebbe essere uno di quelli ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate una serie di link utili tra cui anche la traccia su strava per poter fare se volete lo stesso giro e ovviamente se volete potete seguirmi su strava in modo da sapere subito i giri che faccio in mici volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram ho rinfrescato sono solo 39,5 gradi ho rinfrescato sono solo 39,5 gradi ho rinfrescato sono solo 39,5 gradi ho rinfrescato sono solo 36,5 gradi zacno Grazie a tutti. Guarda che spettacolo lì davanti. Che roba. E' il termine dove siamo passati prima. Ponte. Raghi di Cancano, torri di Frenzi. Ponte. 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 I laghi di Cancano, a destra. Tutti lì andiamo. Tutti lì andiamo. Quaranta gradi virgola uno. No, no, no. Tornante. 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 La savona. Tornante. Trello no 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 Sì 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Un po' mi devo fermare a cambiare la batteria. Devo trovare il punto buono. Lumele. Dovele ho cambiato l'anno scorso. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.